www.feyyaz.tv Mario Bonetti, nato in 16971! Ave Cesare! Quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa scena? Il regno non ancora nati, il linguaggio non ancora inventato. E quante volte Cesare dovrà sanguinare sui sceni di teatri? Come anche qui, oggi, in questo nostro carcere. È brutto i suoi amici! È brutto i suoi amici! È brutto i suoi amici! È brutto i suoi amici!